Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Oggi andremo a vedere l'ultima creatura fusione di Darkwing Blast Quindi nessun'altra fusione brand da Albatz o altra roba Che ci sta anche perchè non lo sentiamo Ho troppi, troppi supporti alla Batz e brand Datevi una carmata Per iniziare sempre vi invito a scrivervi il nostro canale Passate al link sulle descrizioni per voi se siete pagati con il mondo yuki Grazie mille da Darkwing Blast Appunto l'ultimo mostro fusione Che è un mostro runic, un misterion Non so che scrivesce nel titolo Ce li metto tutte e due Allora La carta è Eccola qui L'ultimo servitore di ordino Freki the runic fangs Quindi Fang the misterion fangs Non è vero Allora andiamo a vedere Livello 5 e 2000 Si evoca ovviamente con gli effetti Delle carte maggior rapide Noi ho signato due runic Vabbè che non avremo mai Quando c'è un attacco dichiarato Che coinvolge questa carta Nella zona mostri extra Possiamo bandire due carte dal deck Dall'avversario Nessun giocatore Prende danno da battaglie Che coinvolgono questa carta Se questa carta sul terreno È distrutta in battaglia Dall'effetto di una carta Possiamo targettare Una carta runic Barra misterio Magia rapida dal cimitero E la aggiungiamo Alla mano Allora Dovrebbe essere Questo è il primo Misterion Diciamo Prettamente offensivo Perché ha l'effetto Che parte quando Attacca anche Allora Primo e il terzo Sono Vabbè Diciamo collegati Perché metti Che ti vuoi schiantare Sull'oppo Gli banni due Questo si rompe Ti ha di Una magia d'archetipo Rapida E Ok Non parli neanche Dando da battaglia Ci sta Non so Forse l'avrei fatto Leggermente più forte Però Misterio Non hanno Fusioni Grosse Magari Né di effetti Né di attacco Difesa Però forse In qualcosina In più Magari Bandava tre carte Perché comunque Due Credo che siano Poche Non so se Sarà una di quelle carte E verrà utilizzata Apprettamente più Degli altri Diciamo che Dato che è un mazzo Che parte primo Che vuole partire Primo Questa non te la carerà Mai All'inizio Cioè te la carerà dopo Quando vuole Sfacciare qualcosa Ci potrebbe anche stare Perché comunque Gli altri Puoi toglierti In un modo o nell'altro Quindi come soluzione Per secondo Quando magari Loppo Non ha troppe risorse Per cararti la board Ci può stare Non è Non è così malaccio Detto questo Fatemi sapere Cosa pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti